Amici di D-Day, oggi parliamo un po' dell'HTC One S, il modello di mezzo della gamma One di smartphone Android e di HTC. Si tratta di un modello con display da 4.3 pollici, display OLED e processore dual core. Non c'è il Tegar 3 che c'era invece sul One X, è il top di gamma. Si tratta di un processore Qualcomm Snapdragon S4, comunque è un processore da 1.5 GHz e davvero molto potente da quanto è emerso dalle nostre prove. Il display è uno schermo OLED con risoluzione quarter HD, cioè 960x540 pixel, cioè un quarto di una risoluzione full HD. L'unica cosa che possiamo lamentare è purtroppo il fatto che la risoluzione non è full RGB in realtà, ma è stato in uno schermo a matrice pixel condivisi, quindi con una risoluzione leggermente inferiore per quanto riguarda soprattutto la lettura dei testi. Come il resto della gamma HTC One, anche in questo caso non abbiamo lo slot per schede microSD, per cui la memoria è solo quella integrata che è di 16GB. Abbiamo la porta USB che funziona anche da uscita video Academy tramite cavo adattatore MHL. Utilizza il nuovo formato di schede SIM e microSIM, le stesse per intenderci utilizzate anche dall'iPhone. Altra caratteristica è quella della fotocamera, un aspetto che è stato molto curato da HTC anche a livello di applicazione, con un sensore da 8 megapixel e grand'angolo 28 mm, flash a LED e poi ritroviamo anche qui il logo Beats Audio perché supporta le cuffie e Beats tramite un algoritmo preimpostato e disponibile per tutte le applicazioni audio. Dicevamo all'inizio che lo smartphone si è dimostrato essere piuttosto veloce grazie al processore Qualcomm. Ritroviamo l'interfaccia HTC Sense 4, quella che abbiamo visto anche sugli altri modelli della gamma. Vediamo come l'interfaccia sia estremamente fluida. L'esperienza d'utilizzo è sempre fluida anche a livello di navigazione web, per cui abbiamo un caricamento delle pagine molto veloce ma soprattutto un'ottima fluidità dell'interfaccia anche con pagine abbastanza complesse e con plug-in flash incorporato. Lo smartphone si è dimostrato essere piuttosto performante anche con i giochi con grafica 3D, con un buon livello di frame rate e praticamente anche con giochi abbastanza complessi della grafica spettacolare come questo. Possiamo anche sentire il livello dell'autoparlante come abbastanza buono. Altra caratteristica interessante che abbiamo già visto sull'HTC One X è praticamente il nuovo menu di passaggio dalle applicazioni recenti, con una grafica molto fluida e un menu abbastanza efficace per passare rapidamente da un'applicazione all'altra appunto. In sostanza si tratta di un buon telefono, molto interessante soprattutto appunto l'applicazione fotocamera come potrete vedere dalle immagini sul nostro sito, sia perché è un'applicazione molto veloce sia per la qualità intrinseca della fotocamera.